NA 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 AJ Salve ragazzi, e bentornati in quest'Eppy homes Oggi siamo in compagna di Fire, che è lì nell'angolino a la mia sinistra No, non me vedo laufen questi neanche Perché non sappiamo dov'è, ma in ogni caso inizia a correre e dopo ci troviamo. Ma sicura che siamo nella stessa lobby? Sì, ti vedo, ti vedo nella cosa del proprio lobby. Alla, andiamo dietro di te. Che sto stronzo che mi picchi, avete già rotto il cazzo appena partito la... Oh, e basta! Fire, se sei te giuro che ti molesto... No, basta, me ne vado tutta la vita, Dio Cristo! Ti molesto talmente tanto se sei te, Fire, guarda che... Dai, a pugni, sono morta. Come sei morta? Quanto cazzo c'è qua? Quanto cazzo c'è tavolo per ucciderti a pugni? Esco, esco. Alec, c'è uno dietro di noi. Guarda, se riesco a raggiungere sta cesta, prendo la spada e lo squarto come un cane. Non c'è la spada. Eccolo, 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 eccolo il cittone. È lui, è lui, è lui. Aspetta, lasci questa, corri, 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 devo trovare una spada, non ce l'ho. C'è una cesta qua, Fire, coprimi la... Distrailo, fai qualcosa, ok? Tanto non si avvicina, vai, 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 vai. Aspetta che... No, l'ha presa lui. Eccolo. L'ha presa lui. Figlio di puttana. Corri, 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 corri. Corri, corri, Fire. Cazzo, ho fatto una puttana. Sai che ci sta venendo addosso? Eh, oh, vale tipo... Alla tua destra? Ah, no, sta prendendo la cesta. Ci puoi dire? No, è uscito da Minecraft, l'ho chiuso bruttamente. No, dai, Preach, vai. Eh no, mori a pugni con uno che me... Eh, ma se citava... A parte che non è il primo che citer, facciamo tipo report per una giusta causa, tieni Fire. Tieni, Fire, ti ho dato una roba se ti giri. Vai. E tu ce l'hai? Sì, ho una spada che è il pari di quella ascia lì. Eh, andiamo a killare. Andiamo dal cittone. Era qui. No, sai cosa possiamo fare? Andiamo verso quella barca lì che c'è nelle ceste dentro. Eh, sicuramente ci è andato. Eh, no. Comunque, dai, vale, please, puoi tornare a darci una man inspecting. Qua c'è una cesta. L'apro. Eh, sei saltato te, Fire, che hai preso danno, vero? Sì. Ah, ok. Di nuovo? Fire, tieni, dove sei? Tieni un attimo che ti è più utile per parare. Tieni anche l'arco. E andiamo verso di qua. Comunque, prima, tipo, abbiamo trovato il best Cidereo che... Non so. Lo so, per arare. Eh, però, dopo, ovviamente, cittava... Non preneva neanche fuoco se gli davi fuoco sotto i piedi, per capirci. E volava. Il solito bulletto da strada. Però è finito male, perché ha il ghetto. Un attimo che stiamo neccando chiunque sia entrato. Quale eravate? Eh, nel 23. E, Fire, ce n'è un'altra cesta anche qua dentro. Aspetta che... Sì, è... Ok. Si bagna lo sprint, come al solito. Ma quando è che risolveranno mai, definitivo, il bug dello sprint in Minecraft? Cioè, mai? Io sapevo che dipendeva dal ping. Sì, però, non sto laggando, non dovrebbe laggare. Tieni un attimo, Fire, ti ho dato un po' di roba. No, te l'ho buttata qua dietro, torna su. Quale... Dipende... Eh, 23. Dipende dal ping, sì, però dipende anche dal fatto del ping del server, non solo dal ping singolo. Eh, appunto. Allora, sì. E guarda te. Io sto morendo di fame. Eh, dammi qua che ti do del cibo, dove sei? Qua. Uh, c'è questo. Tieni un attimo, ti ho buttato del cibo, vieni qua almeno. No, l'ho trovato. Prezzo. Beh, andiamo verso lo spawn? Andiamo verso lato. Ah, aspettami, aspettami, Fire, c'è l'elicottero, se non sbaglio. Vale, tu sei specchi? Sì. Sto guardando. Comunque, ci dispiace per la morte prematura di Vale. Eh, ma no, attenti, che appugni proprio mi levavano un sacco di cuore. Oh, le frecce mie, dammi le frecce, Fire. Tu portai con cinque pugnetti del cazzo. Sei cattivo, Fire, non ti odio. Cioè, ti odio. Ecco, te l'ho data. Ma cosa mi dai tutto? Vabbè, tu sei la spazzatura. Oh, 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 c'è un tizio qua sopra. Ci fa il culo? Ci fa il... No, non è vero. Salta giù, salta giù. Arco. Where is the arco? Eh sì, vabbè. Vabbè, ma nelle riettranze. Fatelo cadere. Cammino, sì, con... Eh, un piccione, fa l'amore sui cornicioni. Ah, muoviti. Dove... Eh, ma che cazzo... Ma cosa... Ma che c... Ah, beh... Ma doveva aprire? Oh, fai l'anticipalo, fai l'anticipalo. Anticipalo. Ecco, è fattuto. Anticipalo, anticipalo. Da dire un po'... Ale, sta di là, sta di là. Ale è sceso. Via, lo potete inculare. Vai, vai. È morto. Ok. No, le mie frecce, fire! Aspetta, c'è una cesta qui. Come è che mi ha levato anche quattro cuori? Cioè, non doveva levarmi neanche uno con i miei conti. Dove stai? Sono sopra la montagna perché c'erano un po' di ceste da queste parti. Sopra la montagna dove? Vedi che c'è tipo una montagnola di neve. Ah no, aspetta, è dall'altro lato. Eh, gna gna. Dove saranno ste montagnoli? E di da ne sei andato? Comunque frecce non ce n'erano. Sì, me le ha inculate tutte. No, no, non ne ho. Falso. Dopo ti faccio pure lo screen. Falso. Non è che mi ha il screen, cazzo è, che devo bannarti. Non si muda? Sì. Non sono smutato. Qua non c'è nessuno. Eh, sono qua sulla montagnola di neve e ti ho appena... Ma ce la fai? Ce la fai? Non so dove stai. Dove hanno anche lato il tizio? Vai, se no lo vedi l'elicottero, l'aereo. Ah, sì, possiamo tornare lo spawn comunque. No. Ale, eh, fai, torna indietro. Troviamoci prima l'aereo, dopo. No, indietro. C'è un tipo. Ale, Ale. Dove, dove? Dove? Alla spada in piedra. Aspetta un attimo. Ce l'ho, ci l'ho, ci l'ho in piedra. Fai, torna indietro, c'è Alessio. Eh, lo so, l'ho visto. Ale, girati. Dove? Sei tu? Ale, girati. Oggi sono dentro una casa. Eh, appunto, esci. Esci, 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 esci. No, io, sì. C'è mua. Quessi? Quessi? Parta, vieni qua. Tonto, ho picchiato fire più che altro. E questo citta. Vai, 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 vai. Sopra, sopra, sopra. No, porca puttana. Non dici. Ma questo qui citta o cosa? Perché tutti mi levano 80 cuori oggi. Cioè, di solito non... Eh, ma c'è quello... Ma te l'ho detto, sono morta dello spawn con 5 pugnetti. Ma non è che ti ha chillato questo, magari. Non lo so. Non mi ricordo. Vale, mi dai delle frecce o... Non so. Ah, lei che lo spaga dentro. Non so, anche se c'è il ponte. Eh, io sono di fianco a lui. Guarda, mi hai visto? Mi vedi? No, fai. Sì, sì, lo sto chiudendo. Perché se... Grazie, Vale. Vai, vai, vai. È tornato indietro, sta tornando indietro. Eh, no. Io lo sto... Si è fermato, si è fermato, si è fermato, si è fermato. Perché si è fermato? Non lo so. Io non so da voi siete, in pratica. No, perché stai sbagliando? Non ha chiapato neanche uno. Eh, perché non... È fermo, non lo prendi, Alessio! Non so che dire. Ma che cavo, che sei stupido. Lo perdono per la mia inutile anima. Quanto cazzo è stupido questo? Perché dai vicino con l'arco? Ma sei cretino. Ho killato, Fire. Io sto facendo tipo il giro del mondo. Sto cercando le frecce. Recuperate le veloce. Fire, sono qua, mi vedi? Le sto recuperando io. No, ma ne ho, ne ho. Ne ho tirati su da terra. Non te ne vieni qua. Eh, aspetta, dover cooperare le frecce per me. Ok. Ti ho buttato anche un po' di roba che ti può servire. Te la cerchi te, però. Sì. Vieni, 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 vieni. Thanks. Sono i pantaloni in ferro là dietro. Ah, li hai presi. Presi. Tu, schifami un'altra roba, ti banno. Oh, oh, due tizi, due tizi! Cazzo, ma non sono neanche in team. Non sono in team. No. No, ti seguo. Guarda, te cazzo, fai, ce l'hai fatto perdere. Tutta colpa tu. Ma aspetta, Ale, perché non li lasci villare? Voglio rincorre lì. C'è sempre la solita cagnetta. Ah. Non sei una cagnetta. Ah, no. Guarda che se lo chiude nella... No, ha fatto la cosa che dovevo fare io. Quello è full ferro senza armona. Ma non capisco, perché stai rischiando? Non sto rischiando un bel niente, muore malissimo questo. Cosa è l'arco? No, non c'ho mira oggi con l'arco. Ah, ok. Io vi ho perso, eh. Porca puttana, si è incastrato anche lui nell'arco. Il figlio del Colorado. Vai, vai, kill. Lo so, sono hub, eh. Vai. Vai. È morto, è morto, è morto. Un altro colpo è morto. Eh, sì, però. È difficile prenderli quando fanno a zigzag e non li prendi mai. Eh, ma è logica. Attenzione, la potenza di Fire. Fire lo chiudo e faccio il giro dall'altro lato del palazzo, ok? Tanto mangio anche. Quanto è cretino! Si è incastrato. Ah, ok. Ha perso velocità. Ah, e ora... Eh, sta facendo il giro del palazzo? L'hai killato? Ovvio. Ah, ok. Dammi un po' di roba, però. Che lo stavo inseguendo io all'inizio. È ingiusta sta cosa. Sì, sì, vieni, vieni, vieni. Vedete che ho trovato delle ceste. Biscotto della fortuna. Facciamo due spade in ferro, Fire, Gigi, se andiamo allo spawn dopo. Eh, qua c'è troppa roba. Mi servi tu. Aspetta un attimo. Eh, se l'hai killato dove penso io? Giunti il po'. Giunti il po'. Giunti il po'. Ti vuoi rimanere senza arma, Fire. Ah, ecco, vieni qua. Ma occhio che non tiri fuori la spade in ferro o diamante. Ma non lasciare il drop così. È dove arriva un peglione per la botte. Dov'è? Dov'è? Quando l'è? Ah, è avanti. È morto, è morto. Allora, avanti. Prendi il drop, Allè. Non lo vedo, dov'è, Fire. Torna indietro. Ma porco. È qui, qui, torna indietro. L'hai lasciato il drop così se n'è andato. Dov'è? Sapete quanti il drop ho inculato così? Dov'è sto drop, scusa? Dietro di te. Oh, credo. A sinistra, a sinistra, a sinistra. Ha trovato una spada. Scendi. Scinta il tipo. Ragazzi, scinta il tipo. Scendi. Un attimo, non so dov'è sto drop. Scendi. Oh. Mamma mia, come eccitava. Me ne so dovuto scappare. Ha trovato una spada in una cesta. E ha fatto ritirare. Fire, scusa, vieni nella zona vicino allo spawn. Almeno abbiamo... Eccomi. Ne vedo uno più avanti. Eh, Fire. Dov'è sto tipo? Eh, no, se ne è sceso là sotto. Vediamo allora. Hai qualcosa per me? No, sì, un attimo. Sai cosa facciamo? Andiamo a fare le spade in ferro. Seguimi un attimo. Hai qualcosa di meglio per me, Gigi? Ho tante frecce io. No, non ho niente. Di particolare. Come cazzo? Aspetta, no, no. Fai, aspetta, aspetta. Aspetta, seguimi, Fai. Dobbiamo salire old style, motherfucker, facendo tipo il pro parkour. Vai, vai. No problema. No problemo. Vai. Ma dobbiamo farlo. Sì, non ci sono riuscita. Devi fare così. Fortuna che hai detto no, problema. Sai cosa devi fare, Fire? Devi fare così. Tanta che... Ti spiego. Guardami attentamente. Tanta che non riesco a farlo neanche io secco tutte le volte. Allora, questo no. Fai così e salti di lato, così. E... Sì, se non salta. Ma come faccio a salire in quel livello? Ah, ecco da qua. Ho la scala di nieva. Madonna, non ce la faccio. Oh, ci sono altri due team? E qua si sale. Aspetta, devo rifare... Però, anche se si sale, devo riuscire a farlo... Ah, ecco, c'erano le scavette. No. Sì, vabbè. Affanculo, sono io che voglio fare le puttanate, ok? Vai, 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 vai. Sai cosa facciamo? Dominiamo lo spawn, Fire? Io posso farmi pure una... Un acciolino. Tieni qua un attimo. Cosa ti serve? Quante roba hai, innanzitutto? Devo sputare tutto. Un attimo. Allora. Aspetta un attimo. Le 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 le! Ehm... Tutto questo? Le le. Quanti diamanti hai? Neanche uno. Figa. Comunque manca un minuto e mezzo a refill per quello detto. Quanti lingotti? Quattro iron ingot. Ok, mi faccio un'accerino e brucio tutta questa cosa. No, sta roba qua, sai cosa devi fare? No, non la bruciate. Ah, la sputa? Giù. ah ecco tanto adesso scommetti che ce l'andiamo o vi insegno comunque un trucco dopo se arrivo uno dall'alto che mi serve la barca quando scendete la riprendete dalla porca no non è detto perché noi saltiamo dall'altro lato vieni di qua il rituale avvicinati vieni qual è il rituale ai biscotti la fortuna davene uno che devi vomitarlo proprio dall'anima ok non me l'ha data perfetto ah no sì ce ne avevo già 26 aspetta non posso mangiare quando posso mangiare lo vieni quanta c'è qtpie sam è di sicuro un fan di qtpie marzia no inteso c'è qtpie sam che aspettare è entrato a spettare no ah cazzo non sei te a lei levati ma devo come citta questo oh cristo vi sta a fare tutte e due no non ci sta a fare tutte e due sta citando per tutti e due appunto sta a fare tutte e due sta morendo poi vai 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 morto non diamante come cazzo ha fatto accettare in sta maniera fire non lo so io l'ho visto muoversi tipo come tieni il diamante dove stai oh c'era un altro sotto oh refill otto secondi fire salta giù salta giù salta giù eh sta tornando pure l'altro full ferro quello che ha detto a fare che usa dei città space minecraft lì magari si chiama come e sta tornando quell'altro non hai detto space minecraft vero no uno si chiama eh ve lo dico non mi cagate porco è morto suca prendi te la roba io copro ok fire eh si ma me l'adoro questa roba prendi un po' di roba anche per me ovvio però in diamante mi serve ce l'ho già fatto la spada in diamante io per perché tipo è arrivato il tizio ho detto vabbè devo craftarmi qualcosa di veloce fire ehm allora devo sputare tutto hai preso oh ma per dire la tela che ora c'è non hai preso tutto non hai preso nulla aspetta if you wait quante mele d'oro hai non ci credo che hai preso tutto due mi dai una dopo hai delle frecce anche sì sì ne ho tante non sai cosa faccio io mi crafto le frecce no ah ecco ho trovato quanti cuori hai fire non so ma io eviterei di stare così oh sta tornando sta tornando sta tornando sta tornando dietro 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 andiamolo a prendere sto stronzone aspetta mi aspettami aspettami devo andare l'angolino se proprio trasgressivo dietro ma dietro si è nascosto no ma non ho visto che ha dato fuoco perché pensavo che passasse c'è veramente sei irrispettoso della cliente fai 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 un attimo devo grattarmi 1 è morto so di idiota vai mamma mia quindi si aveva qualche diamante non ne aveva no non ne aveva ma avevo un cazzo di idiota sai fire cosa dobbiamo fare mi è venuta un'idea la tattica lius please seguimi un attimo vai comunque stiamo spargendo troppo drop cioè troppo sai cosa stiamo spargendo stiamo facendo troppo casino perché sto qui adesso ha tirato un sacco di gente ci scommetterei che sono tre in team beh su che siamo in due siamo più forti di loro li eriamo a me ma li eriamo a ma quindi siamo tre vi due no si vabbè più divertente dove stanno questi qua possiamo pure sai cosa facciamo fire io e te lascio accesi i fuochi attento però ce la cambiiamo qua sopra difendiamo il bottino centrale e loro quando arrivano arrivano e non tanto brucia tutto anch'io io ti copro anche allora quante frecce hai 30 perché l'ho craftate devo fare anche gli acciarini io 28 gli acciarini ce li ho io va bene ho fatti un paio in ogni caso no ma la spada in ferro nemmeno c'è per me ma sì ma tanto io contavo del fatto che ce l'avesse già uno di loro quella in diamante che lo killiamo e te la prendi alè mi accompagni giù sai cosa posso fare resto qua sopra piuttosto e no ma poi per risalire e beh per risalire vai da sto lato qua ti io resto a farti da lancetta per il lato da cui devi salire vai giù veloce vai veloce veloce fire veloce aspetta stick allora se la gente smette di entrami in camera tipo rompere vale tu puoi darci una mano aletti bisogno sopra lo spawn come come sopra io ho salvato l'anima vale scendi scendi giù scendi giù scendi giù non sono sopra ecco sta arrivando 1 alle buttati alessio se non ti butti è una cazzata le buttati perso lascialo stare concentrato aspetta allora sto salendo essere tu che è meglio uno l'ha killato alessi ti butti ma non riusciamo a salvare ci quanti li ha ammazzati mamma mia dato come faccio a salire io secondo me non serve si deve ammazzare tutti lui se manca uno di tutti e ma non ti vergogni brutto schifo mamma mia quanto sei pro e seriamente fai paura allora ora mi do a concentrare no scusa ce l'aria me l'adoro fire perché non c'ho un cazzo di vita dove sei sei giù la mina me l'adoro aspetta si ma dammi la mela bridge grazie perché non ho veramente un cazzo di vita non ho scritto che laggavi a lei l'hai scritto stai zitto luca se è troppo laggavi beh potrebbe essere anche che laggassi però laggava anche a me in quel caso cioè è un po' giù vabbè lasciamo stare comunque si effettivamente laggare aiuta molto nel pvp però in questo caso non penso di star laggando tanto perché io li picchiavo tranquillamente per giustificarsi ok mi sono posizionato bene va ci sto io tanto sto aspettando però dai forse muoio perché ho perso la concentrazione si perché dopo ti puoi buttare quella la parte almeno non vi buttate qui fatelo bello pulito il problema è che se uno si butta non finisce più esatto merdina arrivando ecco poi adesso tipo perché usi l'arco fire no guarda lo file che fai 360 ed è poco da l'essere quanti cuori avevi persi due gg ragazzi una cosa aspetta tanto aspettiamo di rientrare il lobby mi sono buttato intanto vi invito come al solito a passare nei canali dei partecipanti che come avrete sicuramente capito erano fire e vale in questo episodio se non l'avete capito ho la brutta notizia per voi è un po' tardi quindi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio attenzione a non fare i team da tre come quei murichelli hanno aspetta anche noi eravamo un team da tre cazzo però allora non entravi uno ero in team ma non ero in team allo stesso tempo comunque ci vediamo al prossimo episodio ragazzi ciao a tutti ciao